Siamo con l'allenatore del Villa San Giovanni, Romeo Antonio, diciamo che il risultato non vi arride, però se vogliamo dire, vogliamo trovare una piccola giustificazione, e quel palo preso quando sullo 0-0 forse poteva cambiare l'incontro se la palla invece del palo entrava. Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. Sì, oggi purtroppo è un periodo sfortunato, abbiamo preso quel palo dopo dieci minuti, solo col portiere, porta vuoto abbiamo preso il palo. Poi ci siamo presentati con mezza squadra, però mancavano indisponibili dieci persone, tra infortunati e qualcuno che il sabato lavora, mi mancavano dieci persone. Il primo tempo è stato, sinceramente abbiamo giocato in modo imbarazzante, dopo il primo palo preso siamo stati proprio deludenti, deludenti, deludenti. Si può perdere sì, però con merito, si deve avere voglia e si può anche perdere. Sinceramente oggi il merito non ha rubato niente, anzi, ha fatto la sua nesta partita, ha sfruttato le occasioni che ha avuto, è onore al merito che ha vinto giustamente. Si è soddisfatto sia per il risultato che per il gioco? Sì, hai detto bene, oggi si è soddisfatto sia del gioco che del risultato. E però, ti devo dire, io anche l'altra volta, tu mi hai fatto le domande sulla partita odierna, ma io mi rifaccio alla partita della domenica precedente, dove abbiamo perso un'occasione unica, abbiamo perso con la Campese e dove abbiamo detto addio ai nostri sogni di gloria. E quindi oggi ci siamo ritrovati con il Villa San Giovanni a dover vincere a tutti i costi per poter essere tranquilli d'ora in avanti. Dove andremo a incontrare squadre importanti, Lazzaro, Cinque Fronde, Melecucco, quindi partite difficili. Quindi oggi era fondamentale, era fondamentale, abbiamo vinto, abbiamo giocato bene. A un certo punto eravamo con una squadra di ragazzini in campo, diversi 2001-99, quindi doppia soddisfazione. Soddisfazione perché abbiamo giocato bene e perché abbiamo vinto facendo giocare tanti ragazzini. Grazie. Grazie. Grazie.